Buonasera a tutti e benvenuti ben tornati in nuovo il nuovissimo video e scusate se ho la camera un po' scosciante va lo sto tenendo in mano, sto sudando sulle camicie guardate che bello la quella è la mia zona one piece guardate la mia belle, a nessuno interessa non fare sempre la nuiosa guarda che bella guarda che bella non mi saluti a me ciao Aseika che mi fa compagnia durante questo tra virgolette come si può definire anche perché il video riguarda anche me ah giusto ma mi si tette sta cosa qui perché è vero un vlog perché io ho la linea buona comunque facciamo questo video per dirti soprattutto due cose e direi che per questo passo un attimo al pc perché faccio una fatica mondiale sennò aspetta aspetta appoggio qua Ale cosa stai facendo mi metto a posto un momento ma si muova non ho tutto il tempo da perdere io mi metto un attimo a posto arrivo arrivo eccomi basta chiedere sono qua vado vado sono qua basta chiedere allora la prima cosa diciamo questo qui è un video che vogliamo fare per spiegarvi un po' le cose due cosette del canale un paio di cosette allora la prima cosa che voglio fare i social non li seguite visto che i social non li cagate infatti facebook abbiamo smesso di guardare soprattutto per quello perché non lo cagate quindi cosa facciamo ve lo diciamo in un bel video allora abbiamo volevamo fare la monetizziamo no scherzo anche e volevamo fare le live ma dato che su youtube ci risulta un po' più complesso volevamo farle su twitch non è che ci risulta un po' più complesso ci sono molti fattori che non ce lo fanno fare semplicemente perché a parte che siamo un pelo più esperti di twitch quindi anche nel reccare tutto siamo un pelo lì più com'è che si dice più no dai serio più capaci a settare le cose anche e poi su twitch o diciamo c'è la tutta su twitch non c'è il copyright quindi possiamo mettere le musiche che vogliamo anche quello che quello è vero possiamo dire anche per quello no sì soprattutto per quello che è fatto del copyright possiamo far vedere quello che ci pare così non abbiamo bisogno di costruzione di restrizioni robe varie siamo più tranquilli ora vi faccio vedere un attimo vado qua copia incolla questo è il mio canale twitch lo trovate in descrizione su youtube sulle informazioni su dovunque andate a vedere trovate questo indirizzo ed questo è il canale twitch del canale vedete aspettate a fare il follow in modo che poi in diretta quando inizieremo a reccare ci siate in diretta il vostro nome ok vi ringraziamo in diretta esatto questo è il canale twitch vedete sotto invece abbiamo messo un po di foto questo l'ho fatta a mano eh non è mica di questo con paint a powerpoint e va sotto le formazioni varie dove vi spiego un po chi sono e come iniziato dove sto tutto quanto e qui faremo le live su giochi vari minecraft giochi vari non so anche magari farò le live le farà lei perché la linea migliore ma davis arriverà arriverà la 10 vega no la 20 potrebbe arrivarmi qualcosa di più buono mettiamola così potrebbe arrivarmi ma non sono sicuro vediamo vediamo nel giro dei prossimi due mesi potrebbe arrivarmi qualcosa vediamo se migliora magari non scassa i maroni a me due palle ma c'è un'altra cosa dobbiamo non dire al ts giusto il ts l'abbiamo cambiato ragazzi abbiamo cambiato il ts mo tiro su vabbè questo è il vecchio ts quindi chi vedrete il ts che c'era prima questo è il vecchio ts il nuovo ts è un po diverso vabbè e me lo devi rimandare lo scrivo male aspetta faccio capi in colla dai andiamo di la andiamo di la su eccoci qui ok questo qui che vedete il ts ho fatto un po di traffico per arrivarci ma questo qui è il ts ok io e lei siamo i fondero ovviamente e sotto ci sono tutte mancherebbe altro di tagli qui c'è il regolamento no il regolamento è qua con tutte le regole rispettate mi raccomando tutte le stanze ok potete anche creare le stanze temporanei vostre tasto destro crea vabbè non qui magari tasto destro basta che non siano cose tipo insulti così magari sarebbe fattibile anche perché è migliorata le regole e vengono più le stanze pubbliche dove potete stare noi di solito siamo qua perché siamo i figli della madonna le stanze con le password se le richiedete avete le icone di lol minecraft dei giochi insomma che ci sono diciamo che queste sono le stanze permanenti che le potete richiedere se poi siete anche youtuber con non 50 iscritti 100 iscritti non perché io neanche quello perché io guardo se mi piace il canale e contenuto che portate io guardo soprattutto quello se avete 50 iscritti avete caricato mi ha scritto ieri uno non caricava video da due mesi cioè ha visto il canale due crash royale due griff di server due mesi fa che cacchio di collaborazione posso fare io no bisogna che siate costanti ci mettete delle belle idee canale ben settato quando insomma ci mettete un po del vostro se così io volentieri faccio collaborazioni però dovete avere questi non dico di essere un gran figo della madonna ma io la penso così almeno per collaborazione ma non c'entra nella grafica però almeno essere decenti e non esatto esatto essere decenti portare contenuti seri essere molto seriosi in quello che si fa quello che si fa sto giocando lo spinner winner per quello che è anche lui è antistress sto rospo qui è antistress davvero vizzi ti manda quel paese altra che altistress si illumina al buio guarda guarda che si illumina al buio guarda che figo eh ragazzi siamo a giocare a quel coso basta vabbè metto qua magari aspetto l'editing metto qua gira 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 e niente altre cose che volevano dire ti vengono in mente a te che altre cose possiamo dire ragazzi non drogatevi no quello lo fa già tanta gente che conosco basta sinceramente soprattutto queste cose qui quindi se vedete passate anche dal canale twitch per vedere quando strimiamo non abbiamo orari niente quindi probabilmente lo speciale sicuramente allora visto che devi stare ai miei orari sicuramente o al pomeriggio tardo sai magari verso dalle 4 alle bu alle 7 e mezza 8 e poi sei tu i tuoi orari cosa so io i tuoi orari o alla sera magari dalle 9 alle 11 così ovviamente non lo fa alla sera cerchiamo di evitare di farlo proprio negli orari di scuola no esatto evitiamo cioè perché sennò come fate a vederlo cioè scusate noi teniamo i vostri orari ma soprattutto ai nostri perché per noi non è un lavoro quindi ci teniamo ci teniamo perché non ci guadagno una lira quindi non è un lavoro ci guadagno una lira magari serve un lavoro non guadagno una lira quindi non è un lavoro e bom che altro c'è da dire ah non mi raccomando quindi mi raccomando niente mi raccomando aspetta infatti sembrava stavo dicendo una cosa mi raccomando ho detto lasciamola parlare perché starà per dire qualcosa di epico sensazionale veramente ah per quello che era sensazionale veramente no allora per quelli che non so diciamo il fatto del video precedente io lo metterei tra le cose da dire che cosa del della serie principale del canale della modifica vogliamo portare quale aspetta che non passiamo più non passa ah si 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 ecco abbiamo registrato voi vi state chiedendo perché non rispondo più alle mail o su facebook del config delle armi ecco ecco perché no per quell'insulto dillo tu uscirà più avanti un episodio del minecraft report ok dal zero eh non sapevamo niente siamo entrati e ci ho trovato la mia smadonna attrice come arma creata da loro cioè il loro prop personale perché allora ma no scusami mi viene da dire porca lo so lo so io vi dissi che le armi ve le passavo perché gioca per provarcele per provarle voi perché volevo farvi divertire a voi ok passarci il tempo giocarci era per quello che ve le passavo se proprio ve le passavate volevate mettere dentro un vostro server di avvisarmi e dirmelo non l'avete fatto ok questi qui hanno usato la mia arma senza dirmi nulla l'hanno messa nel loro server come loro perché questo non è capace abbiamo visto la mia arma più armi del VGF prese sinceramente del VGF non me ne frega niente ma come si fa per dire a me la cosa che mi ha dato fastidio è che tu hai detto se volete usare la mia arma cioè queste armi qui non serve di dirtelo di non prendersi i meriti loro ma di dire di chi è non l'hanno fatto adesso grazie a questa persona qua e lo prendete in culo tutti niente armi personali le volete volete confi pagate potete essere conciso questo video qua non lo vediate ok tutte le volte che mi chiedete che mi chiedete vabbè se mi chiedete le armi in privato io vi passerò il link di questo video vi dirò guardalo fino in fondo per capire perché non ve le passo più basta io non ve le passo più per questo motivo qua perché io gli passi la tua paypal vabbè mi ha dato veramente fastidio non dirlo a me vedete la reazione del video che uscirà poi non so quando uscirà perché lo devo finire di editare però ci sono rimasto veramente 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 male cioè una bocca aperta fin per terra perché non è giusto neanche nei confronti tuoi che crei le armi ma dà fastidio perché appunto ho avuto fiducia ho provato avere quel minimo di fiducia la metti poi gioca lo spinnerino ok piangi e basta gioca lo spinnerino vabbè bravo altre cose da dire sinceramente non mi vengono in mente neanche a me questo è un video per informarvi più che altro che bello comunque niente ragazzi spero che questo video vi sia servito ok a noi è servito per spiegarvi delle cose che faremo e tante cose che volevamo dirvi perché se le diciamo in un video non le cagate spesso volentieri vi facciamo un video apposta perché scrivete prima 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 nell'ultimo primo nell'ultimo aveva scritto uno primo adesso mi saluti in un video no beh cattiveria imparate veramente a rispondere cioè cercate almeno perché noi comunque vi chiediamo le cose non lo fate per scrivere primo primo e vabbè sei primo sti cancazzi a volte il primo scrive anche da solo è stato per dire c'è un video mi ricordo tipo va scritto primo e basta soddisfazione ma quando noi vi chiediamo allora che ne pensate volete questo volete quello voi ci rispondete il primo e sinceramente a questo punto allora non vi facciamo neanche più domande facciamo il cazzo che vogliamo è uscito il video di League of Legends cercate un po' di essere più generosi e dire le cose ok questo video esce dopo deve ancora uscire il video di League of Legends quando facciamo tutto il video ok cercate di essere più gentili dire più cose possibili perché a noi si serve per capire se vi interessano le cose se no che cazzo non le potremmo fare se dovete essere i principali voi interessate di queste cose mica io a me piace portarle ma se non piace a voi cazzo le posso fare sì per quello è il punto lo ricordo niente comunque altre cose da dire non mi vengono in mente a me non mi vengono in mente neanche a lei no no perfetto io direi che questo video è tutto possiamo chiudere andarcene a fanculo è un altro vlog questo in teoria no? sì video vlog non ci avevo pensato prima di di sfogo praticamente non la smetti di mando a cagare pure a te ci andrò oggi sono incazzata nera tutto quello che ho bevuto ce l'andrò sicuro ragazzi vi saluto mi raccomando se questo video vi è servito vi è piaciuto e possiamo dire che anche per stavolta è finita ma saliti ciao ragazzi addio buonanotte